Il Centro Estetica e Benessere di Isabella Antonelli offre tra i suoi vasti servizi un innovativo trattamento brasiliano manicure pedicure monouso. Lavoriamo, abbiamo preparato la partita su due moduli, se si giocheranno sul 4-4-2, giocheranno con il 4-3, non cambia niente. Alla fine è sempre la Cavesse che deve dare le risposte, non quello che ci propone la Sicula. Rispettiamo la Sicula che sicuramente non vive un momento così importante, ha fatto cambio dell'allenatore e domenica ha giocato con un 4-4-1-1. Oggi abbiamo preparato questa partita per avere delle risposte importanti da questa squadra. Noi non ci siamo mai posti degli obiettivi, né di salvezza, né di salvezza né di play-off. Noi dobbiamo fare benissimo in queste partite, noi dobbiamo fare bene fin quando poi non possiamo correggere nel corso d'opera magari su alcuni elementi la squadra, che sappiamo dove, però in questo momento qua noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, pensare di fare più punti possibili, poi dove ci troviamo, questo non lo so. Meglio allontanarci dalla zona salvezza e metterci in una posizione dove la squadra può lavorare con più tranquillità. Vogliamo riscattarci con questa trasferta che è una trasferta dove noi vogliamo prendere qualcosa di importante. Grazie. Grazie.